buongiorno a tutti proseguiamo il nostro viaggio nelle prove di tenuta degli impianti gas avendo già analizzato le prove di tenuta gas per i nuovi impianti con portate termiche inferiori uguali a 35 kilowatt oggi andiamo ad analizzare la norma uni 11137 che ci descrive le tipologie di prove di tenuta che devono essere fatte quando non siamo su un nuovo impianto bensì di manutenzione quindi tutti gli anni quando viene il manutentore della caldaia a fare tutte le sue brave pulizie e dovrebbe fare anche questa prova di tenuta che andiamo a analizzare adesso rifascimenti parziali dell'impianto sostituzione del generatore quindi anche tutte le volte che viene sostituito il generatore sostituzione del tipo di gas distribuito che sia gpl metano e quant'altro o ad esempio persistente odore di gas quindi appunto verificare la tenuta del tubo prima di entrare nel vivo del video fatemi ringraziare subito la testo che è stata disponibile gentilissima inviarmi un loro strumento di punta per poterlo visionare utilizzare dal vivo concretamente e lo vedremo nel proseguo di questo video bene la norma 11137 nel 2012 ci dà una serie di casistiche in base a tutta una serie di condizioni al contorno andiamo a analizzare caso per caso allora il caso a se il contatore ha una portata minima non maggiore di un decimetro cubo ea per gas naturale o 0,4 decimetri ora per gpl allora si può utilizzare direttamente lo stesso contatore che abbiamo nell'appartamento alla pressione di esercizio andiamo a vedere come allora prima di tutto come al solito si aprono porte finestre balconi lucernari areggiato al massimo locale poi si chiudono tutte le valvole che alimentano gli apparecchi in prossimità degli apparecchi stessi si aprono tutte le valvole contenuti nei punti intermedi del circuito interno affinché sia analizzabile tutto il circuito dall'inizio del contatore fino alle va ai vari finali che sono a praticamente davanti agli apparecchi utilizzatori si chiude il dispositivo a monte del contatore si fa la lettura si segna si riapre il dispositivo del contatore si aspetta 15 minuti e si chiude il contatore facendo un'altra lettura se la differenza fra il valore iniziale e quello finale è inferiore o uguale a un decimetro cubo l'ora ovviamente facendo tutte le trasformazioni dell'unità di misura sostanzialmente il valore che avete trovato siccome nei 15 minuti va moltiplicato per 4 e farlo diventare di un'ora no ecco se il valore che trovate la differenza è inferiore uguale a un decimetro cubo l'ora per il gas metano e 0,4 decimetri cubi ora per il gpl allora l'impianto funziona e la prova è verificata e la verifica è positiva se questo valore invece è inferiore a 5 decimetri cubi ora ma superiore a quello che abbiamo visto prima per il gas metano e inferiore a 2 decimetri cubi ora per il gpl ma superiore a quello che abbiamo visto prima cioè 0,4 allora si ha 30 giorni da questa verifica per ripristinare la tenuta qualora tale valore fosse maggiore di 5 decimetri cubi ora per il gas metano o maggiore 2 decimetri cubi ora per il gpl questo caso deve essere posto immediatamente fuori servizio e questa è la prova ritenuta utilizzando il contatore se esso però ha una portata minima non maggiore di un decimetro cubo ora e questo per saperlo dovete avere la scheda tecnica del contatore andiamo a vedere il caso 2 si parte da quello più semplice quello che abbiamo visto e mano a mano si va nei casi più complessi se l'impianto ha un volume all'interno dell'impianto interno non maggiore di 18 decimetri cubi quindi va calcolato il volume dell'impianto interno si può fare una verifica sulla caduta di pressione c'è la possibilità di utilizzare anche stavolta il contatore in questo caso se lasciamo attaccato il contatore il contatore va considerato come occupante 13 metri cubi per darvi un'idea di quanti sono 18 decimetri cubi considerate che una tubazione in rame o multistrato con diametro interno della tubazione da 16 mm siamo su una lunghezza totale al massimo di circa 75 metri per un diametro interno di 19 mm di tubazione sono 53 metri con un pollice d'acciaio sono 23 metri e tre quarti di pollice sono circa 40 metri ecco questi sono dati giusto per darvi un'idea delle grandezze quindi più o meno se siamo sotto questa soglia è possibile utilizzare questo genere di verifica cioè la seconda che stiamo analizzando anche in questo caso si aprono porte finestre lucerne si spaccano le piastrelle insomma reggiato al massimo il più possibile chiudono tutte le valvole poste a monte degli apparecchi utilizzatori quindi subito prima anche adesso si aprono tutte le valvole intermedie dell'impianto interno per dar modo che l'impianto sia verificato nella sua completezza anche stavolta il contatore lo lasciamo collegato viene prima chiusa la valvola del contatore viene inserita nella presa di pressione il manometro o un strumento come il testo 324 a questo punto riapriamo la valvola a monte del contatore in modo che faccia defluire all'interno del nostro impianto il gas per fare la verifica una volta che si è raggiunta e stabilizzata la pressione all'interno della tubazione si richiude la valvola di intercettazione a monte del contatore del gas e si esegue la prima lettura annotandola su un block notice dopo un minuto per il metano o due minuti e mezzo per il gpl si fa la seconda lettura e si annota che questo sul nostro block notice ecco se la differenza di pressione fra la prima lettura e la seconda è inferiore uguale a 100 pascal quindi un millibar e la pressione di riferimento per la prova con gas è 2.200 pascal col metano o 3.000 pascal con gpl allora l'impianto è attenuta altrimenti chiaramente non lo è se la pressione di esercizio è inferiore rispetto ai valori che vi ho appena detto allora anche la caduta di pressione massima sarà da calcolare secondo un altro criterio quindi non si useranno più di 100 pascal ma stavolta la caduta di pressione massima sarà uguale a 100 moltiplicato la pressione misurata in pascal diviso la pressione di riferimento che sarà 2.200 nel caso del metano o 3.000 nel caso del gpl questa è la forma per calcolarsi la nuova caduta di pressione massima bene abbiamo visto il secondo metodo qui andiamo analizzare il terzo metodo previsto dalla uni 11.137 che poi è il metodo veramente principe di questa norma è appunto la verifica di tenuta con il metodo diretto con l'utilizzo del gas questa verifica di tenuta deve essere effettuata mediante idonea strumentazione in grado di rilevare misurare e visualizzare direttamente la portata di gas disperso quindi la procedura similare anche alle altre la diamo analizzare della seguente prima fase si reggiano i locali si chiudono tutte le valvole poste subito a monte degli apparecchi utilizzatori si aprono tutte le valvole intermedie poste diciamo nei punti intermedi all'interno dell'impianto interno della distribuzione del gas si chiude il dispositivo a monte del contatore o a valle nel caso che vogliate comprendere il contatore nella verifica si collega a un punto accessibile l'impianto lo strumento verificatore si avvia la verifica e si attende l'esito della stessa se tutto positivo si richiude a tenuta il punto di controllo della pressione e si aprono dispositivi intercettazione esiste l'alternativa alla verifica di tenuta col metodo diretto con l'utilizzo dell'aria e si applica normalmente quando non c'è la fornitura del gas ma per verità ho deciso di non descriverla anche perché è un caso abbastanza particolare questo punto non ci resta che andare in cantiere e fare la stessa verifica però stavolta in pratica con lo strumento testo 324 bene siamo qui in cantiere adesso faremo la prova principe della uni 11137 ovvero la prova diretta in parallelo col gas in questo caso abbiamo il nostro testo 324 che è collegato a vedete la tubazione al codolo sotto la caldaia che poi si dirama nell'impianto interno e va fino al serbatoio a gpl in questo caso per variare anche un attimino faremo una verifica di impianto attenuta di un impianto gpl la stessa cosa vi ricordo vale esattamente per il metano basta chiaramente impostare diversamente il testo 324 dall'altra parte sempre collegato allo strumento viene messo il polmone che è integrato all'interno della valigetta ecco perché vedete in questo caso lo strumento appoggiato qui sopra come funziona la verifica viene introdotto nel circuito gpl lo strumento a cui riempie il polmone gpl e a una volta che sia stabilizzata la pressione nel circuito immette nel circuito stesso il gpl contenuto nel polmone della valigetta nel circuito in modo che mantenga pressione costante e alla fine della prova tutto il gpl inserito in litriore all'interno dello stesso circuito dal polmoncino al circuito interno ci derà trasformato quanti litriore effettivamente ha disperso il circuito è una prova veramente semplice semplice chiaramente se abbiamo uno strumento efficace efficiente come ad esempio questo è il caso è una prova vi ricordo obbligatoria per legge l'abbiamo visto poco fa e uno di questi casi il caso più classico è la manutenzione ordinaria di una caldaia fatta annualmente quindi questa verifica andrebbe fatta annualmente tutte le volte che è bene fatta la manutenzione della caldaia è una verifica effettivamente molto veloce da fare e adesso appunto l'andiamo a verificare andiamo sullo strumento vedete il menu generale il menu di partenza del testo 324 noi andiamo su impianti gas premiamo ok facciamo la verifica alla uni 11137 ok facciamo la diretta in parallelo impostiamo l'abbiamo già impostato il test gas con gpl e adesso possiamo partire mantenendo tutto il resto invariato la prima cosa che ci chiede è collegare lo strumento all'impianto aprire la valvola di gas primaria il collegamento è già stato effettuato adesso mi recco un secondo qui al serbatorio interrato aprire la valvola per aprire appunto il serbatorio un attimino bene eccomi di ritorno ho aperto la valvola adesso possiamo far partire lo strumento gli diciamo che abbiamo fatto tutte le nostre manove che ci ha richiesto questo momento il serbatorio del gpl è stato aperto quindi ha immesso gpl in tutto il circuito e lo strumento sta caricando l'unità di riempimento all'interno della valigetta il polmoncino che vi dicevo dobbiamo aspettare che ci dica che ha finito il riempimento a quel punto possiamo procedere vi ricordo nell'attesa che lo strumento è dotato anche di una piccola stampantina che vi permette di stampare direttamente sul posto i dati delle verifiche alla fine appunto dell'effettuazione delle stesse per poter stampare e fornire al cliente in diretta insieme magari al verbale che è compilato timbrato e firmato perché altrimenti diciamo è un pezzo di carta senza valore il valore poi lo dà il timbre la firma però avere la possibilità di utilizzare uno scontrino stampato sul cantiere messo lì a prova della misura è sempre comunque uno strumento utile bene ci sta chiedendo di chiudere a questo punto la valvola del gas del serbatoio ora arrivato a chiuderla chiusa di nuovo la valvola del contatore glielo diciamo glielo comunichiamo con ok e adesso sta partendo la stabilizzazione siamo un minuto e mezzo aspettiamo un altro pochino bene ha finito in questi istanti tre minuti di stabilizzazione adesso due minuti e mezzo della durata della misura ecco ci siamo mancano pochi secondi al termine la misura stiamo trepidando nell'attesa di sapere se li devo far smontare tutto l'impianto del gas o no vediamo cosa ci dice bene allora l'esito della prova è idoneo quindi l'impianto lo manteniamo ok sarei accontento l'idraulico eventualmente chi volesse può stampare lo scontrino bene avete visto quanto è semplice fare la prova ritenuta dell'impianto gas e quanto sia effettivamente importante farla nell'ottica di una sicurezza dell'impianto stesso e di chi poi ne fruisce per adesso vi saluto vi auguro una buona serata e un buon lavoro ciao